A ogni azione risponde una reazione che a sua volta eccita e rafforza la prima. Perciò in ogni commedia accanto all'azione direttrice ne esiste una opposta ed ostile che procede in senso contrario, la contro-azione. È un bene e dobbiamo accettare questo fenomeno perché ogni reazione provoca naturalmente una serie di altre azioni. Abbiamo bisogno di questa spinta continua. Essa genera lotta, discussione e una serie di problemi coerenti con le relative soluzioni. Provoca attività e dinamismo, elementi fondamentali della nostra arte. Se in una commedia non c'è nessuna azione contraria e tutto si sistema da sé, gli interpreti e i personaggi non avrebbero più niente da fare sul palcoscenico. La commedia stessa sarebbe priva di azione e quindi non teatrale. Senza tutti i perfidi intrighi di Iago, per esempio, Otello non sarebbe geloso di Desdemona e non la ucciderebbe. Ma siccome il Moro tende con tutto l'essere all'amata e Iago si interpone tra loro con la sua contro-azione, ne nasce una tragedia di cinque atti, molto dinamica e con una fine catastrofica. Grazie. 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 Grazie.